Ciao cucciolini e cucciolini, oggi è il giorno in cui io e Vanessa andremo a scegliere i regali che Anastasia ha visto l'altro giorno al Toys. Ho preso il quaderno giallo da dove Vanessa ha segnato la scelta dei giochi di Anastasia e sto andando a prendere Vanessa che esce per la pausa pranzo e corriamo al Toys a decidere quali regali prendere. Allora, ciao, ben arrivata. Come è andata a scuola? Bene. Bene, hai il quadernetto? Ok, ascoltami, la nonna mi ha detto di scegliere un regalo anche per lei che non poteva venire. No, lo chiamiamo soltanto noi? Lo decidiamo noi per lei in base a quello che Anastasia ha scelto l'altro giorno. Eh sì, certo. Va bene? Allora, ti ricordi un po' di quello che hai scelto? Cosa sono? Allora, la rainbow, quella all'inizio, la valigia viola Nanana Surprise, la Barbie Come on Rebound. Ah sì, era il tubo? Forse. Pin, po', pinipon. Le pinipon, questo qua a lei piaceva tanto, quindi io lo prendiamo, eh. La piastra colorata. No, sì, poi vediamo. Orso gigante peluche. Oh, che bello! Giaco, giaco, scola. Giaco, scola? Le hai scritte tu, eh? Scatola? Ecco, sì, è scritto. Giaco, gioco in scatola. Giaco, scatola, magnetico. Ah, quello delle bamboline magnetiche che... Ah, sì. Ti ricordi? Ok, basta? Basta. Oh, fantastico, andiamo. Sono sette. Andiamo, andiamo, va bene? Allora, Nanana, prendo il cestino, io direi di orientarci subito sulle piniponne perché sono sicura che le vuole, eh? Sì. Allora, lei voleva anche questa. C'è anche la nonna, eh, che vuole, deve prendere... Però questa è 34 euro. Fa niente. Ah, per la nonna, dici? Vi andiamo prima con la nonna. Non è che deve essere per forza... Devo spaccare per forza il prezzo, eh? Andiamo a vedervi. Andiamo a vedervi. Secondo me a lei piace di più la valigetta. Ma dove è la valigetta? Che la rainbow. E questa? 41 euro. Fa niente, va bene. Ma qua dentro c'è... Vedi che tanto c'è già la nonna surprise, potrà mica ricevere sia la nonna surprise che la rainbow. Questa. Io questa la prendo per la nonna Elisa, ok? Quindi per la nonna abbiamo deciso la nonna surprise. Poi vieni... Poi le piniponne come le rivela. Ma chi sono queste bamboline? Le trottis. Che brutte. Nuova arrivo. Sono brutte, vero? Però sono simpatiche. Magic Moon Adventure. Che sai cosa fanno? Ecco le piniponne. Ok, la piniponne sicuro. Quella viola. Quella viola, no? Azzurra? No, viola. Questa è azzurra. Ah, va bene. Gira, fammi vedere che cosa c'è. Ah, ma su quella viola c'è il cartello. Adesso lo stacchiamo. E vedi, questo per me ci sono più cose. Ah, ma c'è il cartello attaccato. Dobbiamo staccarlo. O ce lo portiamo a casa? Ah, mettilo qui. Lo mettiamo qui. 50 euro. Ecco, sarebbe perfetto come regalo per la nonna. Vero? 44 euro che c'è. Ah, power girl. No, il power girl, quello che abbiamo preso noi costa 49,99. Quello azzurro 44,99. No, questo qua c'è più cose. Che cosa cambia? Perché questo non ha i corpi. Questi qua invece sono agli oggetti. Vedi? Ah, è vero. Bello, bello. No, no, preferisco questo. Va bene. Ok. Adesso leggiamo nella lista. Le Barbie, l'osso gigante, la piastra colorata, la valigia, no, già presa. Andiamo a vedere la Barbie un attimo che la vuole. Dov'è la Barbie? Qua. Eccola qua forse. Questa, ha detto QG Leval. Sì, questa qui. Questa qua. Vuoi prenderla? O l'altra è tigrata? Non so cosa cambia da uno all'altra. Ah, che bello. Dai, prendila, va bene. Finito, quindi? No. Come? Ah, dai, ancora uno. Cosa è che voleva? La piastra che faceva i capelli. Quella lì? Sì. Va bene, dai. Questa qua la prendi. Sì. E questa? Sì. Ci vogliono le pile dentro? Sì. Guardiamo se ci vogliono le pile poi, così a me non arriviamo a sprovv... No, mi sa di no. Ok, questa qua la prendiamo da parte di Daniel. Che dici? Va bene? Ok, dai. Basta? Sì. Sì, non mi prendiamo tutto quello che ho. Ah, infatti. Solo quella lì. E noi gli altri li teniamo per Natale. Facciamo che sono quelli per Natale, ok? Andiamo a pagare, sì? E poi andiamo a casa a fare i pacchi, va bene? La carta? Ce l'abbiamo a casa, ne avevo presa tantissima per te. Presi i regalini, speriamo che sia contenta, ma poi a casa abbiamo anche gli altri da impacchettare, quelli che erano arrivati con te, ti ricordi? Sì. Eh, sì. Adesso finiamo di pranzare, poi ti devo riportare a scuola. E oggi pomeriggio quando esci da scuola dobbiamo fare i pacchi, ci sarà anche Anastasia, quindi le diremo di non entrare assolutamente, ok? Se le incontri a scuola non dirle niente, va bene? Allora, ciao amore, bentornata Vane. Allora Anastasia, ti dico una cosa veloce. Stamattina io e Vanessa in pausa pranzo siamo andati a scegliere i tuoi regali, ok? Quindi adesso non devi fare una ricerca sfrenata di questi regali, perché non siamo ancora riusciti a impacchettarli. Se riusciamo lo facciamo adesso. Quindi tu fai merenda, non devi assolutamente entrare nella dispensa bianca. Ah, ok, brava. Capito? Sì. Furbetta? Tutto bene a scuola? Sei andata in centro oggi? Eh, alla UBIC? Hai letto un libro? Vero? Tutto. Tutto, brava. Va bene, andiamo a far merenda allora. Hai capito cosa ho detto? Io ti conosco, eh. Io l'ho nascosta la chiave. Cosa stai facendo? Cosa stai cercando? Spiegami cosa stai cercando tu. La chiave? La smetti. E ritira il giubbotto, bene. Ali smettila, eh. Guarda che se tu la trovi e scopri i regali non te ne do neanche uno. Hai capito? Ridi, ridi. Cos'hai fatto? Cos'hai detto la mano? Hai trovato la chiave? Oh, ma te? Che cosa fai? Così hai nascosto la chiave. Anastasia? No, ha ragione non è essa. Guai a te. Dammi la chiave. Dammi la chiave. Eh, adesso vuoi esagerare. Anastasia? Allora, Anastasia, io ti avviso. Se tu apri quella dispensa, tu non festeggi nemmeno il tuo compreanno. Non l'apro. D'accordo? Sì. E allora perché non me la vuoi dare? Tanto se non la puoi. Non l'apro. Allora dagliela. Dalla a me che se si perde poi... Grazie. Amore, noi adesso impacchettiamo. Quindi ti chiedo gentilmente di non venire in cucina. Ok. Promesso? Sì. Continua pure a giocare con le tue bambole. Bravissima, ma non venire in cucina. Mi raccomando, eh. Barbie si chiama. Cosa? Barbie si chiama. Non ho capito. Barbie si chiama. Barbie, scusami, sì. Hai ragione. Va bene. Dobbiamo fare i pacchetti? Dai. Dai, veloce, veloce. Stacca. Prendi tutto. Ti aiuto che prendo le carte, ok? Sei capace tu a fare i pacchetti? Sì. Fai tu. Siamo veloce anche perché è anche tardi, eh. Già fatto? Bravissima. Mi scordata. Ehi, non entrare. Furbe. Eh? Adesso arriviamo, un attimo. Mamma, guarda, non ci sta più nella pelle, secondo me. Sì. Adesso ti ho detto che arriviamo. Un attimo. Pacchetti fatti benissimo. Brava. Ti conviene staccarti già qualche pezzettino di scotch? Sì. Sì, adesso arriviamo a Nostalgia? Quando faccio questo, poi... Finisce di chiuderne uno e arriviamo, ok? Ciao. Ciao, guardate. Amore, ti sei messo a giocare con la Crybaby? Oh, ha la febbre. Non so. Ha la febbre. Ha tutto... Oh, amore. Hai visto che ha tutte le guanciotte rosse? Gli è venuta la febbre alla Crybaby? Hai visto, vale? Si è messo a giocare con la Crybaby, ma guarda un po'. Dai, Danelli, dobbiamo finire, amore, dai. Guarda. Bravissima, amore. Dai, dai, dai. Veloce, veloce che sei brava. E questo? E quello lo teniamo... No, aprilo e mettici questo, dai. Vai. Riesci? Staccati già qualche pezzettino di scotch. Allora, vai. No. Vai, Gasper, Gasper. Ok, infatti. Super concentrata. Adesso... Piega. Ti aiuto? No. Tengo una manina in mezzo? No? Sei brava, eh? Più di vero. Io non sono mai stata brava a fare i pacchetti. Papà è bravissimo. A me piace. A te piace? Sì, mi piace, però non sono bravissima. Invece tuo papà è molto bravo. Non so. Secondo pacchetto pronto? Dai. Eh, 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 chi bussa? No! Oh, mio Dio! Andiamo a vedere un attimo. Ho trovato questo, il lucchetto. Tu sei tremenda. Hai trovato il lucchetto. E la chiave c'è? No, però si apre così. Si apre lo stesso? Così. Lo scassiniamo? Forse devi tirare. Guarda che sei tremenda stasera. Mi devi far vedere tutti i giochi. Ma guarda un po'. Eh? Sbirciona. Ciao, 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 ciao. Ah! Ecco. Che da qui che si apre. Però non lo do. Ok. Eh, dai, vabbè, amore. Adesso però non ho tempo. Non sbirciami. Non sbirciami. Non sbirciami. Guarda! Ok, allora, facciamo così. Mettilo qui in centro, così. Così. Aspetta. Taglia da qua, che hai già rotto. Taglia qui. Top. Prendila. Gasper. Gasper sta fremendo. Deve entrare. Peggio di Anastasia. E' curioso come lei. Ok. Ci do lo scotch. Altro giro. Altro pacco. Altro giro. Abbiamo già fatto i quattro. Lava. Super veloce l'ha messo a fare i pacchi, eh? Bravissima. Ma vediamo quale meraviglia. Come l'hai fatto questo pacchetto con le ali. Guardate, che carino. Brava, però mi piace, dai. No, no, va bene, va bene. Vai, vai, vai. Tanto sopra la stasa, dai. Guarda se iniziano quelli più grandi. Sì? Non ce ne è più piccolini? Va bene. Le giraffe. Le giraffe? Bravissima. Mamma mia, che arte. Sei riuscita? Brava. Bom, dai. Altro giro. Dai, 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 dai. Stiamo andando bene. Ok? Va bene, vai. Eh, come facciamo? Ma niente, lo arrotoli. E un rotolo si arrotola. Abbiamo cambiato la forbice? Benissimo. L'hai strappato? Non c'è niente, dai. È gigante. Eh, un po'. Caramellona. Questa è una caramellona. Va bene, bravissima, amore. Grande Vane, dai Vane. Siamo gli ultimi due. Uhuh. Wow. Questo lo facciamo esplodere. Guarda, sarà il momento. Somata. Eh, si chiama come la zia questa bimba. Guarda, puoi trovare. Ho questo, questo, questo. No, secondo me trova lei. C'è anche il nome. Scusa. Eh, no? Non ti sembra logico? Sì. Anche a me. Vai, andiamo. Ok. Vai, stop. Qua. Dai Vanessa, siamo arrivati all'ultimo pacco, finalmente. E in tutto sono uno, due, tre, cinque, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove con l'ultimo. Ah, dieci? Di cui uno è della nonna, cioè questo, e uno è di Dania. Va bene? Perché l'ultimo pacco è stato a fare. Sì, l'ultimo pacco è stato a fare. Sì, l'ultimo pacco è una lingua. Tu? Ah, tu invece è perfetto, guarda. Sì, è molto bello. Allora, chiamiamo Anastasia. Anastasia. Vieni. Puoi venire adesso. Vieni. Vieni, Ani. Guardala, guardala. Amore, guarda quanti regali. Ma smettila. Guarda quanti regalini che ci sono per te. Ti dico che però di questi regali... Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Te l'ho detto che era nove. Però ti dico che di questi regali uno è da parte della nonna e uno è da parte di Daniel, ok? Allora, adesso Anastasia, sai cosa devi fare? Tu ti ricordi quello che avevamo segnato sul quaderno giallo, più o meno? Vuoi andarlo a prendere sulla sedia di là? Allora, io ti leggo quello che avevamo segnato quel giorno e tu mi dici secondo te quali sono? Ok. Di questi sono tre o quattro? Sette. Ah, quattro. Quattro. Allora. No, no. Non ti dico niente, tu mi dici soltanto quali secondo te sono. La rainbow arancione, quella con i capelli arancioni. Rainbow arancione, sì. Ok, poi? Quattro, eh, ne devi scegliere. Balizia, viola, nana, surprise. Qual è? Quella viola che quando schiacci esplode. Con dentro la nana surprise. Sì. Ok, poi? E siamo a due, ne mancano due. Barbie, come real. E vabbè, la Barbie, quella dentro il barattolo che avevi scelto. Ah. Non metti lì, forse ti metti là. No. Ok? Cosa? Pini Pono. Le Pini Pono. E quella faccia gigante con dentro tutti gli oggetti. Sì, sì, sì. Eh, sì, sì, sì. Va bene? Te l'avevo detto io. E poi? Pisco. Qual è questa? La piastra quella per i capelli che ci metti dentro i colori? No. No, ok? Te l'avevo detto io. Buona la forbice. Il peluche. Il peluche, non il peluche. Il peluche gigante. È facile da indovinare, eh? Il peluche gigante. Se c'è o non c'è. No. Però magari è nascosto, che lo sa. Chi lo sa? Va bene? E poi? Questa si capisce che è quello baratto gigante. Non capisco. Ma. Magari abbiamo cambiato noi, eh? Magari siamo andati al Toys e abbiamo visto qualcos'altro. Comunque tu puoi... Gioco in scatola. Cosa? Gioco in scatola. Quello che... Ah, dalla face... Cioè, che ti dovrebbe mettere tipo i vestiti... Le doll fashion. Le bamboline quelle con la calamita. Perché secondo me... No. Ok? Ah, sì, ho no. Ne manca uno? Allora, quanti ne mancano? Quanti ne mancano, Anni? Ne hai detto... No, ha detto... Cosa ha detto? No, questo sì, questo no. Ha detto la rainbow arancione, la valigia viola e la... La nana surprise anche ha detto sì o no? No, la nana surprise... Sì, ha detto sì. Sì. Eh, faccio daggio la rainbow, la valigia, la barbinò e la pimple. Te ne manca uno. Te ne manca uno. Allora. E'... Fastio. Questa è la fastio. Dov'è? Fastio. La scatola? È il gioco in scatola. È il gioco in scatola. Quella... Dai, te l'ha appena detto la mamma. Vabbè, ha già detto tutto no? Quindi... Sì. Il gioco in scatola sì? No. È quale? Allora, ne devi dire un'altra. Ti ho detto che ne abbiamo scelti quattro. Ma sei sicura che ne abbiamo scelti quattro noi? Allora... Ok, quello. Dai, il gioco in scatola della bambolina quella magnetica. Hai scelto... Vediamo. Poi, quando c'è il compagno, hai scelto questo. La pinipon, la valigia e la rainbow. Giusto? Sì. Ok, va bene. Poi vedremo allora, ok? Allora, ragazzi, concludiamo però qua questo video perché è tardissimo e io ho saltato praticamente la cena. Adesso devo mangiare velocissimamente. Ok. Anastasia, salutiamo i nostri cucciolini? Cucciolini, cucciolini. Iscrivetevi al canale, attivatevi al canale e lasciate un like a questo video. Ciao! E se mi fai i miei commenti quali sono i dettagli? E se mi fai i miei commenti quali sono 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 i miei commenti quali sono